Al giorno d'oggi il medico deve tenere conto di diversi fattori, non deve pensare soltanto al raggiungimento dell'efficacia clinica con un determinato trattamento, ma deve pensare anche alla qualità di vita del paziente, quanto c'è la malattia grava sulla qualità di vita del paziente, deve tener conto delle comorbidità del paziente, quindi quali sono le altre malattie che si associano alla psoriasi e deve tener conto anche delle aspettative del paziente, quindi cosa il paziente preferisce, un trattamento rapido ed efficace o un trattamento che gli permetta di dimenticarsi della malattia nel lunghissimo tempo, quindi nel lungo termine.